tanti auguri a fox joe tanti auguri a fox joe tanti auguri a fox joe tanti auguri a te buon compleanno fox joe cercherò di dedicarti una vittoria reale ma no vittoria reale una corona di dedicarti una corona primo fail allora comunque fox joe che in chat roberto nicoletta ok momenti pensavo di non arrivarci neanche comunque si cercherò ho detto di vincere la corona ma non lo sapete quanto sono scarso quindi quindi sarà molto molto di almeno almeno c'è c'è il primo round almeno qualificarmi ragazzi almeno primo round ok ok sedicesimo ok che figuraccia faccio se non mi qualifico nemmeno primo round tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri fox joe tanti auguri a te passa una bella giornata divertiti passala insieme agli amici alla famiglia alle persone che ti vogliono bene spero che tu riceva tanti bei regali tante cose carine che ti possono piacere e niente passa una bella giornata vi ricordo che lui lo potete seguire anche su tik tok dove ha più di 3000 followers molto molto bravo su tik tok complimenti bravo fox joe aiuto queste frecce qua sono pericolose allora ma secondo voi riuscirò a classificarmi nel secondo round secondo me no però ragazzi proviamo subito ecco ecco la la volpata la devo fare io la volpata lucco rischio dai o mettiamoci qua dai si mi sono qualificato anche in seconda ok comunque la terza non vinco quasi mai eh lo dico per chiunque stia guardando il video che la terza non vinco quasi mai speriamo di averci fortuna anche così riesco a dedicare la corona speriamo che mi capiti anche una mappa se mi capita quella della lava mi do una botta in testa quella spaziale dai dai insomma concentriamoci aiuto bisogna essere troppo veloci ragazzi insomma no no cosa sto facendo aiuto sono un disastro dai dai no 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 e lo sapevo lo sapevo ragazzi e niente niente ha vinto un panda ha vinto un panda bravo questo panda toio mi sette comunque tanti auguri tanti auguri tanti auguri tanti auguri buon compleanno a te mi dispiace non sono riuscito a dedicarti la corona ma spero che ti sia piaciuto ugualmente il video buon compleanno ciao a tutti ciao a tutti e seguitemi quando faccio le live di Istanbul Guys che tante volte le faccio alle 6 e 40 più o meno come orario ciao a tutti da Svideo ciao 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 ciao